eccoci di nuovo a ricominciare il tempo di avvento il periodo della preparazione per la venuta di gesù le parole del vangelo di oggi ci mettono in guardia stati attenti a voi stessi l'avvento il tempo della conversione del cuore il tempo del ritorno di ciascun figlio al prodigo alla casa del padre celeste però anche se un periodo di prove di sacrificio non possiamo dimenticare lo scopo di questa preparazione il signore viene tra noi questa notizia ci deve risollevare da tutto ciò che ci tiene legati alle cose del mondo alziamo lo sguardo perché la nostra liberazione è vicina gesù viene con grande potenza ma noi saremo pronti veramente a riceverlo la sua venuta scuoterà il mondo e ciascun cuore umano vediamo dunque pregando per stare davanti a gesù con cuore sincero e pieno di amore in che modo vuoi vegliare durante questo avvento per poter essere pronto nel giorno di natale a ricevere gesù come tuo salvatore oggi scegli il vizio che vuoi controbattere inaperto